Suggestioni, immagini non convenzionali, corredate da versi, impressioni, che dipingono un approcida vista come luogo dell'anima. E' il ritratto che ne fa Gianluca Costaiola, autore dell'ultimo libro edito da Fioranna, L'isola piccola, emozioni fra cielo e mare, con la prefazione del magistrato Gioacchino Romeo. Lo sguardo dell'autore, da sempre appassionato di fotografia, si focalizza su quelli che ormai sono i segni che connotano la capitale italiana della cultura 2022, Gabbiani, barche, mattonelle con numeri civici, pescatori, turisti e poi il mare. Storie da immortalare e raccontare, come precisa l'autore Gianluca Costaiola, che ha visto passare davanti ai suoi occhi, lavorando in una gelateria alla Corricella, i veri protagonisti di questa isola speciale. L'ispirazione anche durante il primo lockdown, un'intima raccolta di immagini raccontate dalla penna di alcuni amici, chiosa costaiola, capace di far scoprire una procida diversa da quella nota.